Sarà un consiglio comunale flash, quello di questa sera a Giarre, per l'approvazione del piano dei servizi sociosanitari. Atto propedeutico al bilancio di previsione. Unico atto che sarà votato questa sera, poi per tutto il resto si attendono nuove convocazioni da parte del presidente del consiglio comunale, Francesco Longo. Una cosa è certa, entro il 30 il bilancio di previsione a Giarre dovrà divenire realtà. Anche se in questo momento i riflettori sono puntati soprattutto sulla terza commissione consigliare, che dovrebbe esitare nei prossimi giorni aliquotettari e imu. Se sull'imposta municipale unica c'è poco da discutere, la tassa sui rifiuti richiede invece da parte dei consiglieri comunali un ragionamento approfondito, insieme alla ragioniere capo Letterio Lipari, che però al momento è fuori sede.